Bentornati al nostro appuntamento su Rete8. Oggi parliamo di un argomento che interessa molto i nostri ascoltatori, è quello di quota 100, una modalità di pensionamento anticipato che è stata introdotta al Decreto Legge 4 del 2019. Interessa molto perché all'inizio di questa settimana erano già 1.200 i cittadini abruzzesi che avevano presentato già domanda. Vediamo come funziona questa misura. Quota 100 è una misura sperimentale prevista per il 2019, 2020 e 2021, in deroga a quello che è l'ordinario regime di pensionamento. Ricordiamoci che l'importante è aver maturato in questo triennio i requisiti, la domanda si potrà presentare anche successivamente. Richiede due requisiti, quello fisso che devono essere tutte e due presenti, anagrafico almeno 62 anni di età e contributivo almeno 38 anni di versamenti. Ovviamente potranno esserci un'età maggiore e maggiori contributi per avere diritto a quota 100, quindi materialmente anche chi ha 63 anni e 39 anni di contributi può accedere a quota 100. Vediamo poi successivamente la gestione privata. Per i lavoratori privati, per chi ha maturato i requisiti entro l'anno 2018, può accedere a questa forma di pensione dal 1 aprile 2019. Invece sono state rintrodotte le finestre mobili di 3 mesi per quelli che compiono nel corso dell'anno i requisiti. È un po' complicato ma vediamo un esempio che ci permette di capire bene il meccanismo. Un lavoratore che ha già 38 anni di contributi ma che compie 62 anni di età il 15 febbraio avrà la possibilità di ritirarsi dal lavoro il 15 di maggio, quindi i 3 mesi dal 15 febbraio arrivano al 15 di maggio e il 15 di maggio può andare in pensione. Il discorso cambia per i lavoratori che dipendono invece da datori di lavoro pubblici. Vediamo la slide. Per la gestione pubblica, chi ha maturato i requisiti entro la data in data vigore del decreto ha una decorrenza fissa del 1 agosto 2019, mentre deve essere assicurato un preavviso di 6 mesi all'amministrazione per chi compie i requisiti nel corso dell'anno. Quindi bisogna aspettare una finestra di 6 mesi. La domanda deve essere presentata quindi 6 mesi prima all'amministrazione. L'eccezione c'è sempre per il mondo del della scuola in cui la data di pensionamento è fissa e per AFAM, per i quali la domanda va presentata entro il 28 febbraio, quindi una scadenza prossima che bisogna avere attenzione e rispettare per poter accedere quest'anno alla pensione in quota 100. Molto importante, ci torneremo con una puntata specifica sui dipendenti pubblici. Ulteriori elementi che possiamo dire per dare una carrellata. Stop all'incremento di età. Non c'è l'incremento dell'aspettativa di vita. I 38 più 62 sono fissi per il periodo dei 3 anni. È possibile cumulare periodi assicurativi presenti più gestione. Vedremo poi le regole come funzionano, ma se io ho contribuzione in gestione pubblica o gestione privata posso cumularle per raggiungere i 38 anni. Importante, la pensione non è cumulabile con redditi del lavoro dipendente o da lavoratore autonomo occasionale, in questo caso fino a 5.000 euro possono essere percepiti, successivamente c'è la sospensione della pensione. Quindi è importante anche per questa scelta, se un soggetto vuole rimanere attivo, vuole continuare a lavorare anche dopo la pensione, magari deve aspettare un'altra forma pensionistica. Ricordiamo infatti che rimangono attivi opzione donna, la forma pensionistica per lavoratori precoci e la pensione anticipata con le regole del regge Fornero. Vediamo poi come si presenta la domanda. La domanda può essere presentata, l'abbiamo detto più volte nel corso delle nostre puntate, la domanda può essere presentata direttamente online tramite il sito IMSS, quindi accedendo col PIN, ricordiamo il PIN dispositivo che può essere richiesto o al contact center o semplicemente recandosi in una qualunque agenzia IMSS. Non è competenza territoriale, in qualunque agenzia IMSS rilasciamo il PIN, direttamente non a delegati, quindi la persona deve andare direttamente all'agenzia a prendere il suo PIN. Oppure presso i CAF che ci supportano con la loro attività e che già stanno facendo una campagna informativa nei confronti dei cittadini, oppure chiamando il contact center. Torneremo molto su questo argomento perché è un argomento molto importante, ci aspettiamo numeri importanti anche in Abruzzo, abbiamo detto già sono 1200 le persone che hanno fatto domanda e nel salutarvi ci vediamo alla prossima puntata.